Allora, è ufficiale, il 30 giugno sarò in Thailandia, sicuramente mi farò 4 o 5 giorni nel sud della Thailandia e poi arriverò a Pattaya e sicuramente adesso il canale è un po' statico, metto delle bischerate, delle cose sicuramente farò dei video nuovi, tutti nuovi, tantissimi video, perciò qui c'è il pulsantino iscrivetevi, seguitemi e andremo a scoprire la Thailandia 2018, ciao ciao, ok